Ciao a tutti i Dreamers, io sono Francesca e... E qui è Peppe il videogiocatore! E bentornati su Mario Kart 8 Deluxe! Tush, tush, tush! Oggi torniamo di nuovo online in compagnia di Joseph E Joseph, che cosa scegliamo? Laguna delfino, circuito di Eurel, o come si pronuncia? Assolutamente il circuito di The Legend of Zelda, non si scherza! Ok, la sfida di oggi sarà abitante maschio contro abitante femmina In onore dell'uscita di Animal Crossing Questa settimana uscirà il nuovo gioco di Animal Crossing New Horizon E qui sul canale arriveranno tantissimi, ma tantissimi, tantissimissimi video! Qual è il giorno preciso di uscita? Il 20? Il 20, sì! 20 marzo? E quindi già dal primo giorno, massimo dal secondo, arriveranno i video sul tuo canale? Sì, attenasi il gioco sarà sulla mia Switch, non tra le mie mani perché sarà la versione digitale Pronta sulla nostra Switch, inizierò a giocarci e a registrare Ci sta, ci sta, poi sono curioso di vedere i video e giochiamo pure insieme Sì, 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 ma la mia isola sarà la più bella Allora, hanno scelto il baby park Lasciate un like adesso, vai così, sì! Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, tappate la campanella Tutto sarà giù in descrizione, i social e così via Questo circuito io lo detesto, lo sai? Allora, guarda, in verità, se il titolo di La Mia è divertentissimo perché non si capisce niente Appunto Io sono primo, tra l'altro, no? Per pochissimo lo sono stato C'è il problema che non capisci, ma è chi è davvero davanti a te Questo è vero, questa problematica si crea, confesso E questo è il problema Mamma mia, Francia, mi sto bruciando tutti Ma sono fortissimo, in prima posizione ho trovato un setup devastante, secondo me Ottimo, veramente No, mannaccia, sono terza Te la posso fare Mamma mia, ma che sto combinando? Pusha blue! No, c'avevo il clacsono, l'ho premuto troppo presto No, Fra, vi prego Pusha blue! No, 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 no Ti vedo Sono ancora primo? No, vabbè, ah, ho detto che sono ancora primo Guscio rosso Piasso quarto Qua, qua come fai un minimo errore Sì, per questo questa pista è brutta, brutta Wow, quella grandissima No Wow, la bo... No, Francia, dai Francia, non ci credo Francia, mi hai piaciuto tu Francia, ma no, che pendita Dai, allora, ho fatto No, Francia, mo' devo parlare Su sette giri ne ho fatti sei In prima posizione Cioè, più o meno dopo il primo giro Va, prima posizione Quindi cinque giri primo Arriva l'ultimo giro che Francesca mi pia Pure con la bomba che era Mo' ti faccio fare la pista arcobaleno Non voglio sapere niente No Mi dispiace Mi dispiace, hai fatto... Ma poi, tra l'altro, meglio che vincevo io Hai fatto vincere un'altra No, ma tu non eri primo Quando ti ho lanciato la bomba Lo so, ma ero già andato indietro Mi hai fatto andare ancora più indietro Cioè, ti sembra giusto nei miei confronti Sul tuo fidanzato Sì, cioè, se proprio devo andare... Io voglio andare avanti Ah, bene Quindi metti le... Le tue cose personali davanti Oh, mamma Quella che la... Che la lobby c'è uno che si chiama la pizza Eh, ho visto, eh Fa venire fame Purtroppo non mangiamo patatine pitte da un po' Oh, mamma mia Questa quarantena mi distrugge Mi distrugge Ma che ce ne frega Noi ci divertiamo a casa Lo possiamo dire, Francesco? Ci divertiamo da casa Noi restiamo a casa Ci divertiamo da casa Giochiamo da casa E leggiamo da casa Facciamo tutto Tra l'altro, come facevamo Già anche prima della quarantena Diciamolo tra di noi Io non ho l'audio Per parlare con te Ma che mangi tu? Scarsona Ma perché sei stupido Per questo non hai l'audio Ecco qua Che parti subito con le offese Non sai dire sei sciocco? Io non capisco perché Sei sciocco Ecco qua Parte con le offese Wow Sto andando a gente Fia da te Ma ora mi piacciono tu Ma no No vabbè Francesco lo fai apposta Questo è il mistero dell'abitante Ti giuro che non L'ho fatto apposta Eh ci mancherebbe Mannaggia T'ha preso Questo davanti a te Ma ti proteggo Oh E che ti sei messa davanti a me? Wow Sei proprio cattivissimo Sei tra le persone più cattive Che io conosca Allora E vabbè Ti sei messa davanti E che devo fà? Scusa Ti fai beccare proprio Wow no Ma l'ha pigliato Questa volta devo averla L'ho usata bene Per una volta Questa stellina Boom L'hai preso Brava T'ho visto T'ho visto Complimenti Un po' di recupero Allora Ah perché non sei tu quello avanti? Avevo visto una bandiera dell'Italia Ah no Veramente sto indietro Ah E bravo Shane Per mettere Gusha 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 blu Mi sono scantata Wow ma ha fatto via Pure a me questo roe Hai capito che ha fatto? Ha rallentato No no Uè no L'ho sprecato Io l'ho lanciato a pressa E quello si è buttato giù E Gusha rosso l'ha seguito No Manna Gusha rosso ha fatto Vengo con te Mamma mia che cosa sta succedendo Quell'infame Oh ma che stai di Di chi parli Ma ma ci sono due eroi qua Di quello che ha messo la Buccia di banana Poco prima Della cosa Che non è il drift Non l'ho potuta Scansare Dai sono tutti e quattro Proprio davanti a me Ne deve sbagliare uno E lo acchiaffo Dai Se sbagliare uno Comunque ce ne sono tre Cioè non per qualcosa No vabbè lo so Era per dire Basta che Capis Sbaglia uno L'altro colpisce a quell'altro Sai si creano situazioni Incredibili E Si Cazzo se ti ho preso Anche io No ma vabbè Ma vabbè Io in tutto ciò Ancora non so Come editare questi video Devo confessarlo Devo confessarlo In tutto ciò Io non so ancora Come fare Wow Francie Non ci voglio creare Ma come ha fatto Quello No vabbè ragazzi No Wow Francie Cos'è successo Qua mi sono passati avanti Sulla linea del traguardo Me l'ho lanciato Una bomba Praticamente S'ho finito E tu Sei sesto Sono sesto Tu Settima Francesca Allora quindi Quella di prima Sono arrivata prima io Questa qui si è arrivato prima tu Quindi siamo pari Si ma di scarto di quanto Io sono arrivato prima Tu sei sesto Io sono settima Adesso Quindi te Si Prima Prima io ero tipo quarta E tu ottavo Settimo E allora facciamo finta di niente Facciamo Non ci pensiamo Allora Scusa Cioè dico Non ci facciamo troppo caso Alla posizione Siamo in pareggio Siamo in pareggio Sì 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 Direi palla al centro Siamo di nuovo Capì Equilibrati Una ha vinto prima L'altra ha vinto mo E quindi Da adesso in poi Si contano le posizioni Quindi concentrazione massima Si parte E va bene No non sei d'accordo Scusa ti sembra scorretto Da parte mia Una cosa di questo tipo Eh allora No no Scusa Sembra Ti vedevo Cioè ti sentivo Leggermente contrariata Però è stata un'impressione Allora Va bene Va bene Vediamo un po' Vediamo che esce Allora Vi devo spaccare tutti Vai così Ma tu dove stai Stai dietro di me Poco Sì Se sono arrivata settima E tu sesto Sì Ma che è una presa in giro Volevi fare Ho capito bene C'è vai Allora Non so chi prendo A qualcuno lo devo prendere Però No vabbè Ma ah Perché ha usato il turbo C'è sono in prima posizione Si vedo Prima posizione Ricordiamo ogni tanto I punteggi Perché mi sa che non si vede Poi Eh ma non so come lo sto editando Questo video Quindi Ma che ce ne può Può essere che sto provando A editarlo Come di solito Li editate voi Non ci riusciresti mai Cioè tu e Marco Come li ha edita Gianfranco Azzo Questo è dissing Eh Dobbiamo andare a riportare Gianfranco Questo dissing Andiamo un po' Oh C'ho la protezione amici miei Ci avete provato Bibbi Senti Raffaello mi dispiace Ma vorrei provare No non ce l'ho fatta Mamma mia guarda che prima posizione sto mantenendo Infami No guscio blu No 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 Sì guscio blu Impazziti Vai muoveremo Ottimo Guarda che fanno dietro di te Il guscio rosso ha preso a me Ero terza Adesso sono ottava settima Guarda comunque sto avendo delle difficoltà Innominabili per questa situazione Però almeno una gara Io me la devo portare come Povero cucciolo Eh lo so grazie aiutami Fai così vai Povero piccolo cucciolo Ce li mangiamo Ce li mangiamo No che chi li mangiaro Ho detto ce li mangiamo Che c'entra in chi li mangiaro Qua da ponzi ponzi Boh Vai 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 Che ti ridi Ma che posizione sei? Guardate Prima Francesca Sono ancora Prima Datemi che cosa Che stai a dito Mi sto incazzando No non ti capisco Mamma mia Non ho preso manco il cubotto Quando mi pigliano più questi Mi devono lanciare Solo il guscio No Fra me lo so chiamato Fra me lo so chiamato No Questo non mi supera Non mi supera No no ce la devo fare Ce la devo fare Sono protetto Ma no Oddio Mamma mia Sono arrivato primo comunque Vai vai Francesca Eeeh vabbè Mamma mia Che gara ragazzi Che gara Che prima posizione Settima Francesca Cos'hai da diretto Discolpa Partendo dal presupposto Che non hai scusa Però Diciamo se tu volessi Che sei tu che mi spotti Figa Io ti porto sfiga Io Sì Sì Sei tu Potti sfiga Va bene Va bene Allora vediamo nella Guarda che bella corona Francesca Devi fare lo screen Di questa cosa E metterla come miniatura Se vinci questa hai vinto Se vinco io è pareggio Se la vinco C'è anche Fubuki Che ci sta? Fubuki Fubuki Eh che sembra Diciamo una parolaccia Però L'altra volta c'era Un giapponese scritto Mami Bedi E il figlio Quindi ci giocava tutta la famiglia Si passava nel controller Ogni tanto No 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 È la stessa robin Ah Eh che partenza Non ho preso Manco un gubetto Nemmeno uno Però ti vedo Posalo quei cusci Infatti No l'ho lanciato Non ho preso Nessuno Infatti Te lo dovevi usare Come produzione No Qualcuno me l'ha lanciato A me Non c'è stato tu Trovo No amore No mi dispiace No amo Dillo 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 No non sono stata io Sì vabbò Sono un altro abitante Mi metto a culo L'altro abitante Mi faccio colpire Pure con il gusto Come ti metti No era per dire Che mi metto Molto Sono prima No ero prima Grandissime latrine Ma c'è un sogno Che è durato Pochissimi secondi Nemmeno È un secondo Tempo di dirlo Già non eri più prima Fubuki mi ha superato Chi? Fubuki Fibuki No no Amore No no Era per scherzare Non si può fare una burla Ma che stai dicendo? Ti sto superando tutti Amore Sei tu questo Io al momento Non c'è No non sono io C'è C'è un altro abitante Maschio Ah No la burla Chi è stato? Non ne ho proprio idea Ma che posizione sei? Che infamità Io sono settimo Tu? Quarta Ah pure il guscio rosso Dai sono nono Queste sono le posizioni più infami Dai 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 Ce la possiamo fare Non mollare Mai non mollare Mai Finché tu vincerai Dai Non ho più parire Di che canzone sia questa Ma non so nemmeno perché Mi è venuta in mente Questa canzone Ma vabbè Questo c'è il frasso No iai il guscio rosso di nuovo No please Mannaggia la miseria Che posizione sei? Sono ottavo Francesco Ok Mi sta bene Mi sta bene Mi sta bene così No No mi ha colpito con qualcosa Quella Oh Non ho detto niente No 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 Quello C'è la stellina Si No 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 Francesco non mi vedi più eh Sono quinto Guscio blu Quinto Quinto Tu Nona Ragazzi è fatta Portata a casa Anche oggi Ok hai vinto anche questa volta Però io non capisco come sia possibile Cioè quando sono da sola gioco bene Poi gioco con te e divento stupida Cioè come è possibile È il mio potere Capisci È la mia influenza Positiva O negativa Da vero influencer Esatto E vabbè Vabbè chiudiamo Vabbè Va bene così Quindi ragazzi Anche questo video termina qui Fatemi sapere un po' cosa ne pensate Fateci sapere giù nei commenti Altri setup Altre sfide da utilizzare Lasciate mi piace se il video vi è piaciuto E per iscrivervi ai nostri canali Cliccate sui pallini che vedete a schermo Mettere per vedere altri video presenti sul mio canale Cliccate sulle miniature Noi vi salutiamo E a domani Ciao Ciao